Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi. Pantarei nasce da un sogno, tanti anni fa, e oggi si sta veramente realizzando nel sogno iniziale. Qual è il sogno? Il sogno era dimostrare che un altro mondo è possibile. Attraverso l'uso delle terre incolte abbandonate abbiamo attivato un processo educativo che sta evolvendo. Quali strumenti avete per realizzare questo sogno? Inizialmente siamo partiti come cooperativa. Attualmente stiamo trasferendosi, dopo aver pensato alla fondazione e altri strumenti, la costituzione di un trust. Un trust vuol dire fiducia. Un trust è una norma giuridica internazionale che l'Italia l'ha recepito nell'89 e attivo dal 92, che blocca una proprietà o un bene a uno scopo, a una visione. Perché avete deciso di fare proprio un trust? Perché un trust è inattaccabile e è una proprietà che diventa una proprietà di tutti e di nessuno, in qualche modo. Per questo lo abbiamo intitolato come il nome del trust in cento per plantare il bene comune ed è il primo trust a scopo sociale che si realizza in Italia. Ma non è per essere i primi, era perché questo bene, questo sogno, rimanesse nella sua visione per il futuro o al di là di noi. Cos'è un bene comune? Un bene comune? E a me mi è venuto in mente leggendo le memorie di Adriano quando toglieva la terra ai patrizi se non la coltivavano perché diceva la terra è un bene comune, è un bene dell'umanità. Dove siete all'interno di questo processo? Siamo verso la conclusione. Eravamo partiti sognando di diventare cento, siamo oltre 80 e adesso stiamo concludendo l'atto costitutivo e diciamo c'è ancora posto per gli ultimi in corsa ma comunque procediamo a realizzarlo anche se non siamo proprio certo. Ti serve altro in questo processo? Tutto, sempre. L'intelligenza collettiva e la relazione umana e la ricchezza che serve sempre. Cos'hai imparato da questo processo? Ho imparato che queste cose che sembravano solo un sogno stanno diventando bisogni dell'umanità e la gente ne avverte il valore della relazione umana verso un processo educativo da zero a cent'anni. Siamo una comunità educante e un bene comune. Ecco cos'è il bene comune. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia siamo noi Quest'Italia che cambia sono noi